L'ho detto e lo confermo, il calciomercato dell'Inter è da applausi assolutamente per tutti gli acquisti che sono stati fatti e per non aver ceduto nessuno degli incedibili sulla carta. Però questa storia di Vidal e poi di Modric, volevo un attimo approfondirla, volevo dire due parole. Non tanto sull'Inter, che secondo me si è mossa comunque bene, ma sugli insider di mercato. Ora voglio dire molto chiaramente, non mi è piaciuta la gestione di questo calciomercato da parte di Sky Sport. Sulla questione Ronaldo, che sicuramente poteva sembrare un sogno, poteva sembrare una cosa assurda a chiunque, sono sempre stati molto molto cauti. Fin troppo, anche quando si era ormai capito che la cosa stava andando in porto e che non ci sarebbe stato nessun intoppo come nessun intoppo c'è stato, mettevano sempre un po' tanti dubbi, dicevano sì, però potrebbero esserci comunque delle difficoltà e non davano mai per fatta i vari step della trattativa, non davano mai per raggiunti i vari momenti che hanno caratterizzato il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Sono sempre stati abbastanza veramente troppo cauti, quasi come a negare che la cosa poi alla fine potesse andare in porto. o quantomeno non hanno provato a dare un certo slancio alla trattativa, anche soltanto per dare entusiasmo ai tifosi della Juventus. A questo non ci hanno minimamente pensato, anzi hanno cercato in tutti i modi, e forse ci sono anche riusciti, di abbassare l'entusiasmo dei tifosi giuventini. Mi riferisco ovviamente a tutta la redazione di Sky Sport, ma soprattutto a Gianluca Di Marzio, per il quale ho tantissima stima, ma che credo che sinceramente sulla questione in generale sul mercato della Juve e su questo calciomercato si è scivolato diverse volte, anche se il terreno di per sé è abbastanza insidioso. Parallelamente, per la storia di Vidal e Modric all'Inter, che poi fondamentalmente è stata quasi una prima voce lanciata proprio da Sky Sport, hanno tirato su l'entusiasmo degli interisti in maniera clamorosa, cioè avevano quasi dato per fatta la cosa, Vidal all'Inter oppure addirittura se salta Vidal è pronto Modric, invece stiamo vedendo che non è assolutamente così. Attenzione, probabilmente è vero che l'Inter ha provato a prendere Modric e che ci sono stati dei contatti, probabilmente è vero che l'Inter aveva fatto una sua offerta per Vidal che poi non è stata accettata e Vidal è andato al Barcellona, però da qui a sostenere come fa la Gazzetta, che poi sappiamo bene che non è equilibrata ed è propende per i nerazzurri, per l'Inter, quindi a dire che la cosa potesse andare assolutamente in porto per poi ritrovarsi con un pugno di mosche, mi sembra una cosa appunto non equilibrata. Se poi quando per una trattativa clamorosa sicuramente, ma pure questa sarebbe stata clamorosa, che è andata in porto e non c'è stato nessun intoppo come Cristiano Ronaldo alla Juventus, hanno spento gli entusiasmi ad ogni possibile occasione. Da questo punto di vista insomma non mi è piaciuto come a dare troppo valore, troppa risonanza al mercato dell'Inter anche per quei colpi che l'Inter non ha fatto, invece di dare merito alla Juventus per un mercato mostruoso, perché se quello dell'Inter è da applausi, ed è da applausi, quello della Juve è semplicemente mostruoso. Quello dell'Inter sarà da 8, forse anche 8 e mezzo, quello della Juve è da 10 e non ci sono discussioni su questo, perché non solo ha preso Cristiano Ronaldo, ha ceduto soltanto quello che avrebbe lasciato il posto a Cristiano Ronaldo, cioè Higuain, si è rinforzato in difesa prendendo Bonucci al posto di un Caldara che comunque avrebbe giocato poco, ha preso Joao Cancelo, ha preso Emre Can, non ha ceduto nessuno dei big tra cui Pjanic, Di Bala e Alex Sandro, mi dite un attimo come si fa a non dare 10 al mercato della Juve, invece nelle trasmissioni di Sky Sport, al di là di quelle che hanno trattato poi delle ipotesi, Vidal e Modric all'Inter, si è sempre accantonato il mercato della Juve. Qual è stato il calciomercato migliore a parte quello della Juventus? D'accordo, ma non va bene così, come al solito dire, il campionato lo vince la Juve, sì, ok, ma a parte la Juve chi arriva secondo? Alla fine conta chi vince, conta chi è stato il più bravo, conta chi è stato il migliore. Detto questo, mi sbilancio sulla questione Modric, perché se Vidal è ufficialmente andato al Barcellona, per Modric Florentino Perez ha chiuso tutto, ha chiuso completamente ogni possibilità, cosa che non aveva fatto assolutamente con Cristiano Ronaldo, e da qui capiamo che Modric ovviamente non andrà all'Inter. E cioè Modric si muove solo per 750 milioni di euro, che è la sua clasola recissoria. Lo stesso Modric, mentre in vacanza in Sardegna, in uno scambio di battute sui social con il suo compagno di squadra Real, Nacio, ha scritto che qualcuno stava mettendo in giro fumo, quindi cose false, facendo esplicito riferimento al mercato. Chiudo dicendo una cosa, io di Modric appunto quando era una voce apparentemente fondata non ho parlato proprio per capire come andasse a finire la storia, ma vi dico che se Modric fosse andato all'Inter sarei stato veramente male da tifoso Juventino. Mi avrebbe fatto un enorme piacere, immenso, vedere Modric in Serie A, perché secondo me è uno dei tre centrocampisti più forti del mondo, stravedo per lui da anni, per me è fortissimo, lo vorrei assolutamente alla Juventus. Quindi diciamo un pochino da Juventino esulto che Modric non vada all'Inter, però mi dispiace che appunto non venga in Serie A. Questo lo dico in maniera, quanto più onesta e coerente possa sembrare, posso essere insomma. Ditemi come la pensate nei commenti, questo era un piccolo spazio extra così, per parlare anche del mercato degli altri, dopo appunto aver fatto i miei complimenti all'Inter per il mercato fatto, parliamo anche di quello che è saltato, quindi mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti di calcio e di Juventus, attivate la campanella per le notifiche sui prossimi video, seguitemi sui social, link in descrizione, a presto e sempre Forza Juve!